O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che fra i prediletti del tuo amore, scegliesti la santa Geltrude come in soli, e in quotidiana immolazione di umiltà e carità, per la gloria del tuo regno d'amore, la rendesti apostola della Divina Eucaristia, guida della gioventù, conforto dei sofferenti. Concedici, per sua intercessione. La grazia che umilmente e fiduciosamente, ti domandiamo. Per il cuore dolcissimo di Gesù. Per il cuore immacolato di Maria. Nostra Madre. Per i tuoi santi. Ascolta. O Trinità amabilissima. La nostra preghiera. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.